costituzione italiana articolo 117 così sostituito con l'articolo 2 comma 1 della legge costituzionale numero 3 del 18 ottobre 2001 la potestà legislativa esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie punto m determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale punto n norme generali sull'istruzione punto s tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali autonomia differenziata no grazie